La città è in pericolo Ha bisogno di te Di noi tutti Ovvio, qual è il piano, Coach? Un gruppo rimasti in costume sta prendendo la città pezzo per pezzo Restituiamogli il favore Questa è una grande opportunità Lo sai che nel miglior caso diverresti un loro bersaglio, vero? Più mi ci avvicino, più avremo possibilità di fermarlo Ho ordinato a Silver Sebole e al suo team di spararti a vista Questa città non ha bisogno di te, vigilante Sei ufficialmente un nemico pubblico Avanti Peter Come posso chiamarti? Hai per caso un telefono o qualcosa del genere lì dentro? PlayStation Oh, grazie! Grazie a tutti! Grazie a tutti.